Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Le nozze di Cana rimangono sempre il momento più significativo quel sentire dire fate quello che lui vi dice e in fondo ciò che Maria veramente dice a ognuno di noi quotidianamente perché è ciò che serve alla nostra salvezza allora accogliamo tutto questo facciamo nostra la preghiera ovviamente la offriamo per le nostre sofferenze in partecipazione a quelle di Cristo per le sofferenze di tanti nostri fratelli per l'impegno, la dedizione che abbiamo visto molto molto evidente di coloro che si sono dedicati alla cura di tanti nostri fratelli a qualunque livello non solo quella fisica che certamente è stata prevalente ma anche a quella interiore a quella dell'accoglienza a quella della presenza della vicinanza che peraltro abbiamo sofferto fortemente perché è un virus che ha diviso ricordandoci che il male divide sempre questo è un male fisico divide relativamente pensate il peccato quanto invece provoca divisione ecco, sono tutte cose che devono diventare motivo di meditazione ma non per disperare ma per riprenderci non per abbatterci ma per convertirci non per chiuderci ma per trovare una comunione nuova gli uni con gli altri e allora si da una parte diciamo grazie a tanta testimonianza vista, vissuta, condivisa si imploriamo il Signore il suffraggio per coloro che invece soprattutto in modo forte in questo momento di sofferenza hanno perso la vita e ci ricordano che però questo avviene anche in tanti altri momenti non è solo questo il momento drammatico perché tutto l'anno tutti gli anni tutti i secoli il dolore e la malattia c'è ecco da questo noi dobbiamo trarre però quella capacità di luce che il Signore pone nei nostri cuori e che noi vogliamo trasformare in testimonianza allora continuiamo così la nostra celebrazione la offriamo veramente per tutti gli uni con gli altri tutti per tutta l'umanità chiedendo conversione risanamento e rinascita di un'umanità realmente tale che possa essere chiamata quell'umanità che Dio ha pensato da sempre e che in Cristo ha voluto salvare e ha voluto portare alla luce più bella quella di essere figli di Dio grazie a tutti